buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete oggi non sfidate la sorte prendendo decisioni avventate di cui potreste pentirvi presto toro oggi vi sentirete come confusi e disorientati colpa delle notizie che arrivano dei social media gemelli vi sentirete molto dispiaciuti da come vi tratterà una persona cercate solo di farle capire che vi sta afferendo cancro mostrati sicuro nel lavoro proponi le tue idee con convinzione sarai curioso e avrai un buon umore leone un giorno ricco di buone nuove e per alcuni sarà possibile anche un colpo di fortuna vergine marte oggi vi regalerà una giornata molto intensa e intraprendente bilancia un vostro segreto che avete confidato qualcuno tempo fa sta diventando un oggetto di pettegolezzi scorpione oggi vi sentirete nervosi agitati senza nemmeno sapere il perché sono possibili anche malintesi con amici e parenti sagittario attenti a un amico dei pesci o della bilancia oggi potrebbe tirarvi un brutto scherzo anche se innocente capricorno nel bene nel male cercate sempre di essere gentili sorridenti e di mettere al primo posto i vostri abituali modi educati acquario in amore ci sono piccoli colpetti il vostro umore ma niente di serio tutto passeggero pesci oggi non rischierete certo di annoiarvi avrete buone occasioni di divertirvi e di mettere a segno qualche colpo importante questo è tutto al prossimo appuntamento con l'oroscopo ciao 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 ciao